ciao ragazzi bentornati nel nostro garage oggi monteremo sulla nostra ktm 790 di ventura r i paramani della barboosters eccoli qua la particolarità di questi paramani è sicuramente il loro telaio in alluminio molto robusto e resistente e poi le diverse forme dei cover e diversi colori di quest'ultimo la prima cosa da fare sicuramente rimuovere i paramani originali e poi montare i nostri nuovi paramani mettiamoci al lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora ragazzi abbiamo terminato devo dire che è stato abbastanza semplice non è stato necessario spostare o modificare la posizione delle leve o altro perché va tutto perfetto l'unica cosa per questo modello per la 790 barboosters fornisce un perno più lungo uno spessore per quanto riguarda diciamo il lato destro dove è presente la pompa del freno anteriore detto questo i paramani sono fighissimi mi piacciono tanto sicuramente metterò anche questo cover che va giunto qui si può mettere in due posizioni se non ricordo male questa sarà prima e poi un'altra un po' più bassa e lo aggiungo bene abbiamo finito vi ringrazio ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti